Walzer in cinque parti dal vivo, tramonto con l'orchestra Robertino. Buon divertimento e come sempre vinca il migliore. Può partire la musica. Sous-titrage ST' 501 Tramonto, Walzer. Le musiche sono del maestro secondo Casadei. L'interpretazione è della meravigliosa orchestra spettacolo Robertino. Sous-titrage ST' 501 Ultima parte. Complimenti, bravi ballerini. Grazie.